Signorina, una cortesia la prego, devo andare in bagno, può tenere mia figlia due minuti, ok? Mamma, a dopo, ciao, ciao! Come ti chiami? Mi chiamo Alessia Che bella, wow! Occhio che fragile! Sì, va bene, ho capito! Alessia, l'hai visto questo? Sì, l'ho visto! Ah, l'ho comporto qui, eh? Lo so! Alessia, e questo l'hai visto? L'ho comprato qui, eh? Lo so! Alessia, e questo l'hai visto? Sì, l'hai comprato qui! No, non l'ho comprato qui! Ti ho fregato! E' stata brava Valentina! Adesso siamo amiche, vero Alessia?